Spiaggia libera si potenza il servizio di salvataggio Guardia costiera celebra il 157esimo anniversario Gabice arrestato uomo che guidava contro mano A novembre parte la nuova stagione di Fano Teatro Vis presa uccelli VL operazione chiusa per Mars Buona serata cari amici e amiche di Rossini TV per questa nuova edizione delle Rossini News telegiornale di mercoledì 20 di luglio che apriamo con il potenziamento dei servizi dei bagnini di salvataggio applicato dal comune di Pesaro sul pezzo di spiaggia libera tra bagni delle poste e Pesaro Studi un intervento nato da una situazione di pericolo ma per capire meglio di che cosa si tratta vediamo il primo servizio Da oggi il bagno al mare sarà più sicuro per chi frequenta la spiaggia libera Quella in questione è il pezzo di spiaggia tra bagni delle poste italiane e il porto che da oggi vede attivare un servizio che prima non riceveva e che nessun'altra spiaggia libera della costa pesarese riceve La tragedia avvenuta nelle acque di Fano e gli episodi che si sono verificati a Pesaro lo scorso weekend ha fatto drizzare le antenne ai bagnanti e ai gestori dei bagni che nel pezzo di litorale di Ponente interessato hanno segnalato al comune di Pesaro la presenza di una buca in acqua di circa 15 metri quadrati pericolosa per chi va a fare il bagno Nello fine settimana che appena trascorso lunedì e martedì in realtà ci sono giunte alcune segnalazioni di un pericolo o comunque di una sensazione di pericolo nella zona che qua le mie spalle legata al verificarsi, al realizzarsi di una buca dovuta alle correnti e quindi questo pericolo ha portato da alcune persone a preoccuparsi e a segnalarlo anche per il rischio comunque che di fronte alle correnti si possa trovare impreparati e quindi questa mattina abbiamo subito con il centro operativo segnalato con una cartellonistica e con delle boe questo pericolo e abbiamo anticipato il servizio di salvataggio il servizio di salvataggio che quindi qua in questa zona è già partito anche nei giorni feriali quindi già da oggi compreso il fine settimana e quindi lunedì e martedì fino alla fine del mese sarà garantito nell'orario 10-18 Un servizio ulteriore che in poche ore il comune di Pesaro è stato in grado di offrire e frequentatore di quella spiaggia libera che prima di oggi godevano del bagnino di salvataggio dal venerdì alla domenica fino alla fine di luglio poi dal primo al 31 agosto tutte le spiagge libere del litorale pesarese disporranno come da normativa del guardia spiaggia bagnino di salvataggio che è presente sin da oggi necessario per far fronte al pericolo individuato Mese scorso si è creato col mare mosso un canale di risacca quindi una buca, il termine tecnico con una corrente che si chiama corrente di ritorno che porta al largo questo canale si attiva solo e esclusivamente col mare mosso per un eccesso di acqua insomma in battigia forza una via d'uscita verso il largo e la forza tra delle secche quindi delle zone in cui si tocca bene forza questo canale di ritorno questa corrente di ritorno e scava una buca scava un canale che porta fuori porta al largo il bagnante medio non lo sa non lo conosce a volte si trova in difficoltà finisce involontariamente in queste buche e viene trasportato dalla corrente sempre più al largo ed è un pericolo questa esigenza ha comportato una rapida riorganizzazione dei turni dei bagnini un organico abbastanza ampio quindi nell'emergenza immediata sì alcuni turni sono stati spostati abbiamo un po' di flessibilità con i ragazzi quindi siamo riusciti nell'immediato nel giro di poche ore a riuscire ad organizzarci per oggi poi avere il servizio quindi ragazzi che magari erano a riposo sono riuscito a reinserirli per poi dopo in seguito riavranno giorni di libri un'equipe di bagnini di salvataggio che nella giornata di domenica scorsa ha visto da vicino come quella corrente d'acqua che da oggi è segnalata a tutti ha potuto mettere in pericolo la vita di due signore io con altri due colleghi hanno visto due signore in difficoltà che annaspavano proprio all'altezza del canale della buca sono usciti a nuoto con il rescue can per andare a soccorrerle io subito dietro di loro con il moscone ho raggiunto in particolare la signora più lontano che era anche quella più in difficoltà e l'abbiamo trasportata a riva per fortuna la questione si è risolta il salvataggio si è risolto in maniera positiva l'abbiamo portata a riva e è stato necessario comunque attivare il 118 e somministrare ossigeno a una signora perché aveva bevuto e Anna Spava era in difficoltà però insomma arrivato il 118 la situazione si è risolta in modo positivo quindi bisogna stare molto attenti bisogna seguire le indicazioni soprattutto con bandiera roscia le indicazioni del bagnino di salvataggio chiedere e informarsi al bagnino di salvataggio che è anche qui apposta per dare informazione per insomma farsi indicare le zone dove il bagno poter fare il bagno in maniera più sicura e dalle spiagge spostiamoci al porto di Pesaro sul quale oggi in occasione del 157esimo anniversario della Guardia Costiera è stato fatto il punto su alcuni interventi che lo riguardano da vicino in occasione del 157esimo anniversario delle Capitanerie di Porto il direttore marittimo delle Marche Donato De Carolis ha fatto visita questa mattina a Pesaro dove si è soffermato sia sullo stato di salute che sui progressi del corpo della Guardia Costiera in questo ultimo anno 157 anni al servizio dell'utenza con un corpo che è ancora giovane un corpo che è pronto alle sfide future è pronto sia nella veste di transizione digitale in futuro ormai si sta operando affinché i servizi all'utenza del mare vengano digitalizzati un corpo che con le nuove acquisizioni di unità si propone anche di fare rotta verso il green le nuove prossime unità avranno la propulsione compatibile con il rispetto dell'ambiente un corpo che è volto verso la specializzazione specializzazione che ci è riconosciuta in vari ambiti anche europeo parlo di specializzazione nel campo della sicurezza della navigazione nel controllo di tutta l'intera filiera ittica nel controllo ambientale quindi un corpo, ripeto, maturo per via dell'età un corpo che ha saputo adattarsi al futuro è un corpo che anche in futuro saprà essere utile a tutta l'utenza del mare l'accessibilità e l'accoglienza delle imbarcazioni legate al problema della profondità delle acque al dragaggio è un tema quanto mai attuale e delicato che necessita un'attenzione particolare sono operazioni che devono essere effettuate con il rispetto dell'ambiente benvenga c'è una coscienza ambientale molto forte quindi tutte le procedure sono declinate in tal senso però sono procedure che comunque devono andare avanti perché con il dragaggio significa sicurezza di navigazione e pertanto devono essere effettuati Momenti di panico ieri sera a Gabice Mare quando un cinquantenne del posto in sella al suo scooter stava guidando lo scooter contro mano e non si è fermato all'alte della polizia locale a quel punto si è dato alla fuga proseguendo contro mano e sui marciapiedi fra lo sconcerto dei pedoni che transitavano in centro grazie alle segnalazioni degli stessi pedoni gli agenti hanno rintracciato l'uomo vicino al suo motociclo abbandonato nel cortile della villetta il cinquantenne in questione ha cominciato a inveire contro i poliziotti aggredendoli fisicamente gli agenti hanno sedato il comportamento utilizzando lo spray al peperoncino l'uomo poi è finito in manette per resistenza pubblico ufficiale e oggi al tribunale di Pesaro ha espresso pentimento per le sue azioni comportamento che è comunque costato una pena di tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale è partita ieri sera da piazza dell'unificazione di Marotta la prima di tre tappe che il presidente della regione Marche Acquaroli e l'assessore alle infrastrutture Baldelli vogliono portare sul territorio per discutere delle strategie dell'arretramento della linea ferroviaria adriatica Acquaroli e Baldelli hanno ribadito la necessità di una strategia che preveda stralci di lavoro di un arretramento globale della ferrovia sulle Marche a ridosso dell'asse ferroviario i due esponenti regionali hanno reputato inaccettabile un unico bypass su Pesaro e Fano non inserito in un quadro organico di sviluppo della regione trovando condivisione nel pensiero del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che ha indicato nella regione l'unico soggetto competente a seguire questa fase strategica pensiero diverso dal sindaco di Fano Seri e dall'assessore Pozzi che hanno posto l'attenzione sul rischio di perdere finanziamenti ministeriali già stanziati e proprio nel comune di Mondolfo è stata emessa in queste ore un'ordinanza di non potabilità dell'acqua distribuita dall'acquedotto nello stesso territorio comunale ad esclusione delle zone ex Marotta di Fano comprese fra via Andersen, via Vecchia Osteria e via Esino il divieto di utilizzo al consumo umano interessa in maniera specifica il punto di prelievo di via Raffaello dove l'Asur ha rilevato presenza di Salmonella a scopo cautelativo l'ordinanza è stata estesa a tutto il comune ad eccezione delle aree che vi abbiamo appena citato ed ora parliamo degli impianti sportivi della città di Pesaro che si riqualificano grazie ai fondi in arrivo dal PNRR un colpaccio da 6 milioni e mezzo di fondi PNRR per il comune di Pesaro che incassa 2 milioni e mezzo di euro per i progetti presentati per il bando sport e inclusione ai cui vanno aggiunti i 4 milioni già conquistati per l'impianto Facchini, nuova casa VL e futuro centro federale del basket il comune è infatti rientrato negli elenchi dei tre cluster del bando PNRR per il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e rigenerazione di impianti abbiamo intercettato tutti e tre i cluster del PNRR cluster 1, 2, 3 il che vuol dire che andiamo a riqualificare nella zona delle 5 torri il campo da baseball all'interno del quale verrà realizzato anche un impianto per giocare, cioè un campo per giocare a calcio verrà risistemata anche la pista polivalente che prevalentemente viene utilizzata per il basket che è il campo Nike quindi diciamo questa è la cittadella dello sport che verrà riqualificata nel caso specifico del campo da baseball ci sarà la possibilità di mettere un impianto per le energie rinnovabili e quindi diciamo sappiamo quelli che sono i costi soprattutto per mantenere anche un campo da baseball quindi questo permetterà a quell'energia di rimetterla in circolo non solo su quell'impianto ma anche su quello che è probabilmente anche il quartiere e spostandoci alla zona della torraccia dove verrà realizzata la pista ciclorotellistica anche lì diciamo è l'altro progetto diciamo che abbiamo presentato con il cluster del PNRR lì ci sarà la possibilità di illuminare tutta diciamo quell'area sportiva di realizzare una struttura per il calisthenics una palestra per l'arrampicata quindi diciamo un'altra parte diciamo dedicata allo sport che si amplia lì vicino abbiamo anche la vitri frigo arena quindi diciamo un servizio anche per il quartiere della torraccia e l'altro siamo casa WL quindi il progetto quello che si amplia della federazione italiana pallacanestro quella zona sarà anche il centro federale per la FIP e quindi insomma pesaro a tutto sport Quattro serate dal 21 al 24 luglio al centro basket giovane in Viale Trieste dove si terrà la ventesima edizione dell'Hip Hop Connection scopriamo ora il suo programma è un traguardo veramente emozionante perché quando abbiamo iniziato nel 2001 avevamo sempre detto facciamo questa edizione poi vediamo poi la seconda poi la terza ogni anno comunque è un evento molto complesso da organizzare dicevamo dai questo è l'ultima questo è l'ultima questo è l'ultima poi siamo arrivati a vent'anni forse questa è l'ultima però sì è molto emozionante e per festeggiare abbiamo organizzato tre serate secondo me molto molto belle dal 21 al 24 parte Hip Hop Connection Arena diciamo i momenti salienti a cui vi invitiamo venerdì sera il 22 al basket giovane dalle 9 ci sono degli spettacoli è una serata di show, di spettacoli, performance di ballerini di diverse compagnie un mix tra Hip Hop e Break Dance poi abbiamo sabato sabato abbiamo delle gare più relative al breaking, alla break dance siamo lì dal pomeriggio ma il clou delle gare è dalle 8 e mezza in poi di sera sempre basket giovani e poi domenica domenica sempre gare, sempre battle i ragazzi si sfidano da tutta Italia e non solo più relativo all'Hip Hop e quindi anche lì dal pomeriggio ma l'evento clou diciamo le gare, le finali dalle 8 e mezza, basket giovane avremo anche un ospite che si chiama Red una giovane ballerina autistica e che grazie a una collaborazione molto molto bella con il Comune di Pesaro le politiche giovanili e nell'ambito del progetto Città dei Giovani 2022 siamo riusciti a far venire questa ballerina incredibile molto particolare che si esibirà durante la serata di venerdì e poi sabato e domenica dall'8 e mezza in poi abbiamo le finali con delle gare sempre spettacolari incredibili di breakdance e di hip hop quindi per chi vuole vivere e vedere cose incredibili vi aspettiamo tutti al Centro Basket Giovani venerdì, sabato e domenica per festeggiare tutti assieme la ventesima edizione di Hip Hop Connection Arena continuano i lavori per ripristinare strada San Donato di Ginestreto interessata da una frana dopo la conclusione del primo stralcio degli interventi che hanno riguardato il tratto in corrispondenza di strada a Monte Romanesco ora ruspe, tecnici e operai sono all'opera per la riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dell'abitato di Ginestreto l'obiettivo è quello di terminare i lavori di messa in sicurezza entro il mese di settembre perché si tratta di una via frequentata ogni giorno da automobilisti genitori e ragazzi per recarsi al lavoro o a scuola l'importo dell'opera di riduzione del rischio idrogeologico comporta una spesa di 200.000 euro la provincia di Pesero Urbino riconosce il merito a tutti gli studenti e studentesse che sono usciti con il voto di 100 elode dall'esame di Stato la cerimonia si svolgerà a Piobbico domenica 31 luglio alle ore 19 nel castello Brancaleoni i giovani studenti potranno incontrare un ospite d'eccezione come Franco Arminio poeta, scrittore e regista di rilievo del panorama culturale nazionale con il quale gettare lo sguardo sul futuro il secondo appuntamento di note oliveriane si prepara a trasportare nelle atmosfere musicali musicali barocche del 600 con il duo composto da Pamela Lucciarini e Filippo Pantieri che eseguiranno nella cornice dei musei civici che quest'anno ospita la rassegna un programma diarie cantate, toccate e musica di danza per tastiera, voce e continuo l'appuntamento fissato alle 21 del 21 luglio 2022 sarà a ingresso libero saranno 7 spettacoli per 22 serate a confezionare una ricchissima stagione di prosa di Fano Teatro 2022-2023 che parte nel mese di novembre e che è stata presentata oggi al Teatro della Fortuna di Fano vediamo intanto vedremo una stagione tutta intera che dopo gli anni Covid questa è una bella novità che ci consente di dispiegare un'avventura devo dire davvero con tutti i colori necessari tante le occasioni diverse tanti i nomi belli ma tante le storie belle a partire da quella in apertura un hotello vissuto in maniera originale tutto al femminile che ci rimette di fronte alla grande storia di Shakespeare ripensata attraverso appunto il talento di attrici di grande forza di grande fascino come Federica Fracassi e Lucia Lavia che conosciamo appunto come figlia d'arte una sorta di musical contemporaneo è quello con Veronica Pivetti stanno sparando sulla nostra canzone una fonte di stupore sarà l'ospitalità che offriamo a uno degli spettacoli più internazionali più interessanti cioè Nuda di Daniel Finzi Pasca un autore svizzero capace davvero di ammaliarci e di meravigliarci insomma tanti appuntamenti sette serie in abbonamento per tre recite ciascuno quindi 21 appuntamenti più un'anteprima da non perdere con Emma Dante davvero una grande stagione aspetta tutti gli spettatori che vorranno essere con noi a condividere queste emozioni Riproponiamo i sette titoli con le tre serate proprio prima del 2019 come prima del 2019 proprio perché il pubblico i cittadini ci sono stati vicini ci sono stati vicini anche durante la pandemia con le presenze online con gli apprezzamenti venendo comunque a trovarci ecco e questo ci ha dato la carica tutto questo ci ha dato la carica per poter riprogrammare questa stagione pensando al meglio pensando veramente in positivo sette titoli avete sentito quali sono interessanti per tutti noi un grande lavoro lo facciamo verso i giovani perché è importante venire a teatro e soprattutto daremo la possibilità a tutti di trovare un posto per venire a respirare l'area della cultura in un teatro meraviglioso La campagna abbonamenti al Via nel mese di settembre poi tutti i biglietti saranno in vendita sia nelle biglietterie fisiche ma anche sul nostro sito amatmarket.net e su vivaticket.com ma quello appunto saremo da settembre a disposizione intanto per conoscerlo abbiamo tutta l'estate per capire appunto bene qual è questa proposta ricca che il teatro di Fano fa appunto a tutti gli spettatori del territorio Ed ora lo sport perché la VL ha annunciato di aver ingaggiato il nuovo giocatore Mohamed Ali Abdur Rahman soprannominato Mars guardia di 28 anni e di 1,93 m reduce dall'esperienza in Polonia con Lega Versavia dove tra campionato e Europe Cup ha viaggiato a una media di 13 punti 3 assist 3 rimbalze e 28 minuti in 32 partite disputate a Pesaro indosserà la canotta numero 5 e continua il mercato della Vispesero in vista della partenza in ritiro fissato a sabato per il Trentino dopo i prestiti di Borsoi Gazoini e Campani che vi abbiamo raccontato ieri nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di ingaggio del centrocampista classe 2002 a Uccelli in prestito dal Sassuolo di cui è stato il capitano della squadra primavera nella scorsa stagione con 33 presenze e 5 gol contestualmente la Vis ha anche rinnovato il contratto di Davide Marcandella fino al 30 giugno 2024 un'importante conferma per il centrocampista 25enne che lo scorso anno collezionò a Pesaro 4 gol e 2 assist in 29 presenze e con lo sport si conclude qui questa nuova edizione delle Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata questa sera infatti alle ore 21.20 ci sarà il programma La TV dei viaggi Viaggio in Sicilia e poi a seguire alle ore 22.30 come tutti i mercoledì e venerdì andrà in onda Storie e racconti di successo nella provincia di Pesaro Urbino un programma che Rossini TV ripropone dove verrà intervistato Mauro Fradeani Odontoiatra e poi vi ricordo l'appuntamento per domani mattina con Buongiorno Rossini alle ore 7.20 in diretta la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino e con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata di Pesaro Urbino